Leopardi sarebbe questo poeta misantropo, solitario, ma non è vero. Chi studia questo autore, studia il tempo in cui è vissuto, i rapporti, le reti, cosa che è necessario sempre fare, si rende conto che Leopardi ha avuto non solo una rete ampia di relazioni, ma ha avuto dei veri amici, molti, e che evidentemente doveva essere una figura così come noi amiamo raffigurarcela, di grande gentilezza, di grande urbanità. Altrimenti ci chiederemo, non riusciremo a spiegarci per esempio come mai Jean-Pietro Viesse possa aver scritto a Leopardi dicendogli che era l'unico con cui lui avrebbe voluto faire ménage. Oppure non potremmo spiegarci per esempio come Leopardi possa essere diventato amico del suo editore, non soltanto un rapporto di lavoro, ma un rapporto di amicizia che viene testimoniato da una serie di lettere con lui, con il figlio, la grande amicizia con il più importante medico del primo ottocento italiano, il medico Tommasini e il legarsi insieme a Tommasini e a tutta la sua famiglia, alla moglie Antonietta Tommasini, alla figlia Adelaide, ci sono delle lettere che testimoniano un rapporto di amicizia bellissimo, ma l'altro medico della sua amicissimo Francesco Puccinotti. Francesco Puccinotti è un personaggio importante nella storia della nostra medicina, ma siamo in un'epoca in cui il medico, quest'epoca è durata fino a un paio di generazioni fa, il medico è l'umanista, quindi è capace di leggere i testi letterari anche in modo critico, Puccinotti discute per esempio dell'eccellenza delle operette quando queste vengono pubblicate, ma lasciamo stare adesso il giudizio letterario, è proprio lo spazio affettivo che unisce queste persone, sono lettere di un'intensità straordinaria. Un altro dei grandi amici, Louis Desinner, si prende cura del lavoro filologico di Giacomo Leopardi, come se fosse figlio proprio, opera propria. Ci sono delle lettere bellissime tra i due. Leopardi non è un solitario, non è l'ermite desappennente come lo definisce Viesse, in realtà lui è in contatto con la cultura italiana ed europea, il conte di Leopardi era un famoso filologo. Leopardi si è veramente innamorato, ha scritto della passione d'amore come pochissimi altri, a noi non importa poi quando, come, se, la mano, il piede, non ha nessuna importanza, importa quello che lui ha veramente sentito, ha veramente sperimentato il senso dell'amicizia come probabilmente pochi altri. Una vita di una densità anche affettiva, non soltanto intellettuale, sperimentata, perché altrimenti non si può scrivere, è tutto lì. Non si può scrivere se non si sperimenta e non si può sperimentare se non si vive.